Le notizie le avevi da quelli che per caso c'erano andati in vacanza. Si è cominciato a leggere, si è cominciato a cercare di mettere insieme. Abbiamo fatto il pellegrinaggio alla fine di maggio. Vedere tutti questi giovani, con questi Kalashnikov al fianco, ci è venuta la pelle d'occa. Avevo 19, 20 anni, parla dei corpi civili di pace, dei caschi bianchi, e io rimango fulminato e folgorato da queste idee. Si intravedeva lì la possibilità di concretizzare molte teorie sulla non violenza. Ho conosciuto l'exigoslavia e in realtà i conflitti in genere attraverso le mie esperienze di servizio civile. È venuto nelle classi, ha parlato e ha detto che c'è questa iniziativa. Una situazione di guerra molto vicina, mai così vicina. In copertina c'era questo tonino bello di Barletta che cercava centomila persone per andare lì. Bene, eccolo, io ho trovato. Ma in quel viaggio lì è cambiata la mia vita. La mia vita è cambiata la mia vita. Grazie a tutti.